Comincia stanotte, server mio ti prego non andare offline, si farma e non si dorme, Diablo 4 è arrivato ora non smetto mai, ehi tu lo sai che io faccio le cose serie, fino a mercoledì ho preso le ferie, questi giorni non esco, non esisto proprio, non mi stacco nemmeno se c'entro il remoto, i player di piove lo danno già per morto, ma tu più stai giocando più vuoi dargli torto, cambiano i giochi ma noi mai, sarà più bello il gioco oppure è più bello live, gioco anche di notte, finché faccio il 100 non mi fermo mai, si farma e non si dorme, Diablo 4 è arrivato ora non smetto mai, e Lilith sei tu, nei sogni, nei saggi, nei libri, più caldi solo tu, chi sarà il primo che ti troverà? Ora che ho il mio PG, lo vestirà più non posso, e con sta build esploda anche il mostro piuttosto, ammazza se è forte ma sei tu l'autore, ma no ma ti pare VDG è il suo nome, fammi vedere questa build voglio provare, lascia stare, te ne trovi almeno una che ti piace, che fa tanto male, poi hai le Paragon Board, sono tante quale scegli te, gioco anche di notte, finché faccio il 100 non mi fermo mai, si farma e non si dorme, Diablo 4 è arrivato ora non smetto mai, e Lilith sei tu, la madre che parla e non puoi non amarla solo tu, ma c'è qualcuno che ti fermerà. Ci amiamo io e te, io l'angelo in arius, tu la demone, sulla schiena luce che ci trovi in me, se mi guardi in faccia vedi il nero, pensa a te, ci amiamo io e te, io c'avrò le corna ma ho gli occhi che, mi guardi e ti mettono in fase rem, sto casino qui l'abbiamo fatto io e te, gioco anche di notte, finché faccio il 100 non mi fermo mai, si farma e non si dorme, Diablo 4 è arrivato ora non smetto mai, e Lilith sei tu, nei sogni, nei saggi, nei libri più caldi, solo tu, chi sarà il primo che ti troverà? E benvenuto a Diablo 4, e Marsala fa una canzone anche qui, abbiamo già fatto il channel, RNL forever, chi trova questo Diablo 4? E quindi benvenuti in imperi, chi la spunterà in arius o Lilith? Ciao!